Buonasera e benvenuti a tutti. Martina, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Umberto, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Il matrimonio è un po' come un viaggio. Ci saranno dei momenti di gioia, ma anche degli ostacoli lungo il vostro percorso. Ed è proprio in quei momenti più difficili che dovete trovare la forza per stare insieme e ricordarvi l'amore che vi ha portato qui oggi. E con una gioia immensa che vi dichiaro marito e moglie. Viva gli sposi! Grazie a tutti!